Problemi agli impianti di aereazione, prese d'aria e filtri. Questi motivi con i quali ufficialmente la direzione dell'ospedale ha spiegato il trasferimento dei pazienti dal reparto di rianimazione alla sala di terapia intensiva di cardiochirurgia. Il provvedimento e la direzione è anticipato di poche ore l'arrivo dei carabinieri. In asse, come documenta l'edizione palermitana di Repubblica, si è presentato ieri pomeriggio in ospedale per degli accertamenti. All'interno del reparto, che ospita in tutto otto posti letto, sono state riscontrate le carenze strutturali. L'intervento dei carabinieri del NAS è scattato probabilmente in seguito a una segnalazione interna. Dopo la chiusura della rianimazione, adesso scatteranno i lavori di adeguamento di tutto il reparto. La direzione del Policlinico Paolo Giacone conta di riuscire a riaprire la struttura entro il mese di aprile, dopo che tutte le criticità riscontrate saranno risolte.